Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere l'ipnosi e soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Los Angeles il quale mi scrive dicendo dottore ma io da circa quattro mesi ho paura di guidare, ho paura di guidare, ho paura che qualcuno mi tolga anche la patente, ho paura di perdere la mia libertà e io gli ho risposto e mi chiede la causa, cosa può fare eccetera eccetera eccetera, io gli ho risposto che queste paure che sento da più parti, da più angolature nascono a causa della tv paura, dei tg paura, della tv covid io la chiamo anche oppure dei tg covid, stanno bombardando tutto il mondo soprattutto in occidente di questa paura che porta le persone a pensare di tutto di più, c'è gente che ha paura di guidare come c'è gente che non esce più di casa, c'è gente che ordina ai propri genitori di non ricevere più nessuno a casa, c'è gente che ne fa di tutti i colori, però non si giustifica ciò con la ragione, si giustifica a livello irrazionale, il subcosciente ha paura, ha paura perché è ipnotizzato dalla massa, dalla tv paura e come questo esempio dei tg paura che iniettano, insinuano nella tua mente, nella mente di tutte le persone diciamo per la stragrande maggioranza queste fobie, queste paure, così funziona anche per il resto, per la depressione, per le malattie aggiungo anche perché no, perché succede che si influenza e quando una persona crede che prima o poi gli toccherà, succede, come diceva anche San Francesco d'Assisi nel 1100 d.C., attento a ciò che dici e attento a ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita, e io la modifico questa frase, parafrasandola, dicendo attento a ciò che ti dicono, vedi tv, poteri forti e a ciò che ti fanno o che ti fanno pensare perché possono fartela diventare la profezia della tua vita, e questo vale nella felicità, nella povertà, nella ricchezza, nelle malattie, nelle paure, fobie, eccetera, eccetera, eccetera. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, pensa come funzioniamo noi e pensa perché spendono miliardi da tutte le parti per comprarsi la famosa tv, tv in senso lato, tv intesa anche come cellulare, tv da letto, tv da bagno, tv tascabile, tv in auto, dappertutto. Allora tu hai la facoltà di scegliere se indirizzare questa tv a fin di bene, in senso lato tv, oppure in senso male, nel senso che potenziarti, essere felice, cambiare la tua mentalità per il bene tuo e del tuo caro, cioè educare il tuo subcosciente, il tuo pilota automatico, il computer famoso di Star Trek, a tuo vantaggio oppure a tuo svantaggio. Tutto dipende da te. Ma la prima fase è diventare consapevoli, consapevoli, porre l'attenzione che ciò che io ti sto dicendo è la pura e sacrosanta verità. Ora, belle parole dottore, mi dice la soluzione? La soluzione è l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, anche da solo, senza girare cappelle, palestre e mettere la famosa tuta, anche con un solo audio mp3 di CS, in questo caso dal titolo mai più paura di guidare, oppure no ansia, no panico, ti eliminano queste paure instillate da qualche immagine, da qualche parola, da qualche soggetto in tv, che può essere un film, una trasmissione, un programma, una notizia, tutto di più, che in base alla persona, al proprio subcosciente, al proprio pilota automatico, diventano la propria realtà. Funzioniamo così. Ecco perché l'ipnosi di CS vera e professionale è costituita solo da parole semplici, pulite, trasparenti, comprensibilissime, senza nessunissimo effetto secondario o collaterale, però parole create ad arte, ad hoc, con quasi un secolo di un antico sapere. che provengono da due grandi, grandi, grandissimi artisti dell'ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola, il professor dottor Miguel Angelgarai, la dottoressa Rina Brunini, i miei maestri, i miei mentori, i miei associati, i miei amici, per tutta l'eternità e anche per le vite oltre l'eternità, che hanno cambiato la mia vita nel 2008, hanno salvato mio padre da un ictus, dove la medicina a tutti gli specialisti della medicina a cui portai mio padre, spendendo una montagna di soldi, mi dicevano che sarebbe rimasto a letto per tutti gli anni a venire, come una larva, come un vegetale, ma io non arrendendomi sono andato oltre e l'ho salvato. E mio padre si è alzato di nuovo, grazie all'ipnosi vera e professionale della dottoressa Rina Brunini, il professor dottor Miguel Angelgarai, con il bastone e ha vissuto dieci anni scherzando con gli amici, cercando mia madre in tutti i sensi immaginabili e possibili a 80 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la vita ragazzi, questa è la storia e la mia mission non è quella di vendere audio a MIP3 di CS, ma di fondere il mio metodo di CS a tutta la gente di buona volontà. Bene, fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visite il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share e condividi con amici e parenti, perché può essere quel guide o quella molla che gli può cambiare la vita, e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino. Devo lasciarti perché mi stanno chiamando, ciao.